Recoaro è il tardo pomeriggio quando un escursionista di 46 anni inciampa e cade dal sentiero delle casoline per diverse decine di metri in un bosco. Il soccorso alpino di Recoaro, Valdagno, allertato dal gestore del rifugio Monte Falcone, raggiunge l'uomo, 46 anni, di trissino che riceve le prime cure dall'equip medica. Lamenta dolore al collo e se la cava con alcune contusioni. Caricato a bordo dell'elisoccorso di Verona è stato trasportato in ospedale.